eccoci qua salve a tutti e benvenuti a questo approfondimento ve lo annuncio molto molto importante perché si sta preparando per la preparazione concorsi in tutti i profili in tutti gli ambiti in particolare per funzionari dirigenti diciamo che è un tema molto molto importante anticipo alcuni concetti stiamo parlando del risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo meglio che si verifica allora quando l'amministrazione annulli un provvedimento favorevole quindi io chiedo un permesso mi viene annullato sulla base di quell'annullamento subisco un danno ecco le implicazioni giuridiche che vengono affrontate dalla adunanza plenaria quindi il massimo vertice della giustizia amministrativa in questa sentenza la numero 20 del di fine novembre quindi freschissima come al solito io vi metto a disposizione la versione da me evidenziata nei passaggi essenziali adesso ve la metto anche più ravvicinata così potete leggere meglio i vari passaggi guardiamo anche la vicenda che cosa è accaduto molto velocemente abbiamo il tema fondamentale riguarda la responsabilità della pubblica amministrazione per l'affidamento suscitato nel destinatario di un provvedimento ampliativo notate tutti i concetti giuridici che trovate nei manuali di diritto amministrativo quindi responsabilità affidamento provvedimento ampliativo in questo caso era un permesso di costruire illegittimamente emanato quindi il provvedimento non doveva essere emanato e poi è stato annullato in autotutela quindi questo annullamento ha portato ovviamente nei confronti del soggetto che aveva questo permesso di costruire per realizzare il suo immobile un danno un danno perché ha dovuto demolire questo immobile poi vedremo se è questa l'entità delle caratteristiche del danno risarcipio le questioni sono sorte su un contenzioso perché si va all'adunanza plenaria perché su questa materia ci sono orientamenti discordanti fra la corte di cassazione e il consiglio di stato e all'interno del consiglio di stato fra le varie sezioni del consiglio di stato ma fondamentalmente la divergenza è fra cassazione e consiglio di stato che succede la signora emanuela ha avviato un procedimento giurisdizionale per chiedere la condanna del comune di numana al risarcimento del danno conseguente all'annullamento del permesso di costruire nel 2008 a favore di un lotto di terreno sito in una certa località l'annullamento è stato pronunciato sulla base del ricorso della proprietaria confinante la signora alessandra la quale appunto ha impugnato il provvedimento che in sede giurisdizionale poi è stato riconosciuto come illegittimo a seguito dell'annullamento quindi mettetevi nei confronti dell'interessato l'interessato ha costruito un immobile il vicino fa causa il giudice condanna a dichiara l'illegittimità del permesso di costruire quindi l'immobile va demolito ok risultavano il tentativo dell'amministrazione comunale di sanare ai sensi dell'articolo 38 del testo unico dell'edilizia l'abusività perché esistono casi nei quali è possibile una sanatoria ok di interventi illegittimamente realizzati non è questo il caso quindi non c'è neanche la possibilità di sanare l'abuso edilizio quindi la signora riceve un provvedimento di demolizione l'ordine di demolizione da parte del comune che ha tentato ma non è riuscito ad arrivare alla soluzione per cui cosa fa la signora a fronte dell'ordine di demolizione impugna davanti al tar tar marche in questo caso l'ordine di demolizione chiedendone l'annullamento perché perché aveva diciamo ritenuto di avere un legittimo affidamento lei non era colpevole ha chiesto un permesso di costruire gli era stato dato è colpa dell'amministrazione quindi chiede l'annullamento dell'ordine di demolizione e il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'azione della pubblica amministrazione il tar marche da ragione alla signora la sentenza 268 del 2020 da ragione alla signora dicendo è vero l'ordine di demolizione va annullato e il risarcimento del danno va riconosciuto la sentenza di primo grado ha condannato il comune a risarcire i danni consistenti nel maggior valore del terreno acquistato correlato alla sua illegittima di destinazione perché perché la signora aveva comprato un terreno agricolo convinta di poterci edificare una civile abitazione perché lo strumento urbanistico lo prevedeva in realtà la variante allo strumento urbanistico che era stata adottata è stata dichiarata illegittima quindi non poteva costruire legittimamente quindi il tar condanna a risarcire la differenza di diciamo di valore fra un valore pensato come edificabile e un valore e un terreno invece non edificabile l'appellante quindi ricorre in appello contro la sentenza di primo grado che dà ragione al proprietario chiamiamola abusivo l'appellante contesta la giurisdizione amministrativa perché dice non spetta il giudice amministrativo non stiamo giudicando del risarcimento del danno conseguente a un provvedimento negativo io chiedo il permesso tu non me lo dai ti chiedo il risarcimento del danno ma stiamo giudicando del comportamento dell'amministrazione nell'ambito in un diverso procedimento a questo punto la quarta sezione del consiglio di stato a cui diciamo è devoluta la causa di appello di questo tar marche ha ravvisato contrasti di giurisprudenza fra la corte di cassazione e il consiglio di stato ecco perché siamo andati in adunanza plenaria la quarta sezione si è fermata ha detto rimetto all'adunanza plenaria per chiarire una volta per tutte se ed ecco i tre quesiti che vengono formulati centrali nel diritto amministrativo primo se la domanda di risarcimento del danno sia devoluta la giurisdizione amministrativa quando si debba verificare le conseguenze risarcitorie dell'annullamento di un atto amministrativo tanto su domanda del ricorrente vittorioso che del controinteressato socconvento in questi casi c'è giurisdizione del giudice amministrativo o si deve andare dal giudice ordinario come ritiene la cassazione secondo quando vi è un affidamento incolpevole da parte dell'interessato che gli consenta di ottenere il risarcimento del danno quindi quando è che chiarita la giurisdizione del giudice amministrativo civile non importa la signora a che deve demolire l'immobile ha diritto ad ottenere un risarcimento del danno per aver fatto affidamento sul provvedimento quando è che non è colpevole questo affidamento e se il fattore tempo cioè il fatto che intervenga molto a distanza l'annullamento possa incidere terzo quando è che si può escludere la riprovi riproverabilità dell'amministrazione quindi quando non è imputabile all'amministrazione questo comportamento vedete tre quesiti centrali sul tema risarcimento del danno da annullamento di provvedimento amministrativo vediamo qual è il ragionamento sono 23 pagine io vi ho evidenziato le parti più importanti ma vedete vedrete che sono che sono tante allora la corte il consiglio di stato va subito al dunque sussiste la giurisdizione amministrativa tanto sulle domande aventi ad oggetto le conseguenze risarcitorie dell'annullamento di un atto amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità quanto nel caso di specie che è diverso in cui la domanda risarcitoria sia proposta dal contro interessato soccombente in un giudizio di annullamento di provvedimenti della pubblica amministrazione nella materia urbanistica edilizia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo allora noi sappiamo che la giurisdizione è divisa fondamentalmente in due ambiti interessi legittimi giudice amministrativo diritti soggettivi giudice civile in realtà questa regola che rimane è derogata su certe materie una di queste è l'urbanistica e l'edilizia la materia proprio di cui discutiamo stiamo parlando di un permesso di costruire a seguito di una variante urbanistica per cui siamo di fronte a questa questione il consiglio di stato già prende posizione e fa una breve storia molto importante leggete le pagine 5 6 7 perché riassumono gran parte del diritto amministrativo in particolare il diritto amministrativo processuale utile ai fini dei concorsi in generale la giurisdizione amministrativa a fondamento costituzionale nella diconomia diritti soggettivi interessi legittimi sappiamo che la costituzione parla di diritti soggettivi e interessi legittimi articoli 24 e 113 cosa accade prima della costituzione la legge fondamentale il famoso allegato e della legge 2248 del 1865 storia ma storia che era attuale fino a pochissimi anni fa che aveva abolito il contenzioso amministrativo cioè eliminato la giurisdizione in casa dell'amministrazione cioè l'impossibilità di andare da un giudice nei confronti degli atti dell'amministrazione si poteva solo chiedere all'amministrazione con i ricorsi amministrativi e ha previsto il principio del giudice unico cioè si va dal giudice ordinario in tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione il secondo passaggio siamo nel 1865 nel 1889 nasce il consiglio di stato come lo conosciamo oggi come giudice amministrativo viene creata la quarta sezione la prima sezione giurisdizionale dopo le tre consultive che è chiamata a giudicare dei giudizi amministrativi nei confronti degli atti della pubblica amministrazione quindi 1865 c'è il solo il giudice ordinario 1889 nasce la giurisdizione del giudice amministrativo ovviamente a quell'epoca non c'erano i tribunali amministrativi regionali la corte costituzionale ha affermato che il riparto fra giudice ordinario e giudice amministrativo è riconosciuto sulla base della posizione giuridica interesse legittimo diritto soggettivo ma la corte costituzionale ha detto attenti che il giudice amministrativo ha piena dignità di giudice ordinario questo è fondamentale il giudice amministrativo non è un giudice speciale è il giudice ordinario degli interessi legittimi o è il giudice ordinario della giurisdizione amministrativa detto meglio quindi non è vero che la giurisdizione è devoluta al giudice ordinario perciò solo che la domanda abbia ad oggetto il risarcimento del danno non deriva dalla costituzione che il risarcimento del danno è sempre al giudice ordinario se siamo in una materia nella quale verte la giurisdizione del giudice amministrativo il giudice amministrativo arriva a condannare al risarcimento del danno perché attenti a questo passaggio logico e qui siamo al confine fra il diritto e la filosofia ma è un po difficile ma è importante il risarcimento del danno non è oggetto di un diritto soggettivo non è un diritto a parte il risarcimento del danno è un rimedio a tutela di una posizione giuridica tu mi ledi un diritto soggettivo mi risarcisci mi ledi un interesse legittimo mi risarcisci il giudice che giudica su quell'interesse è il giudice del risarcimento guardate questo è dal punto di vista concettuale un passaggio epocale ancora poco capito nel diritto in generale e nel diritto amministrativo in particolare in quanto il giudizio amministrativo assicura la tutela di ogni diritto articoli 24 e 111 della costituzione in più con il principio di concentrare davanti a un unico giudice l'intera protezione del cittadino non devo costringerlo a fare una causa amministrativa e una causa civile con un linguaggio improprio per farvi capire è il giudice a da cui mi rivolgo che mi deve dare soddisfazione completa sentenza della corte costituzionale 140 del 2007 non solo dice il consiglio di stato questo si ricava dalla storia dell'evoluzione giurisdizionale e dalla corte costituzionale ma l'articolo 7 del processo amministrativo del codice del processo amministrativo mi dice c'è giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e nelle particolari materie indicate dalla legge di diritti soggettivi concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del provvedimento del potere amministrativo e ciò è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e nelle materie indicate dalla legge dei diritti soggettivi e qui è il primo passaggio logico spero che diciamo di averlo illustrato sufficientemente bene perché adesso c'è un passaggio un pochino più difficile il consiglio di stato dice attenzione qui non siamo di fronte a una lesione di un interesse legittimo di un diritto soggettivo la signora non aveva diritto a costruire la casa la variante urbanistica era illegittima non aveva diritto a costruire la casa un giudice ha annullato il provvedimento amministrativo punto e basta non c'è questione di lesione di interesse legittimo o di lesione di diritto soggettivo qui si verte in una diversa fattispecie che è l'affidamento l'affidamento non è una posizione giuridica soggettiva autonoma non esiste l'interesse legittimo il diritto soggettivo e l'affidamento si direbbe con un brocard latino terzium non datur sono solo due le posizioni soggettive l'affidamento è una situazione un istituto che può essere diciamo correlato a un interesse legittimo e correlato a un diritto soggettivo anche questa guardate è una non una novità ma così come esplicitata è fondamentale fino ad oggi si riteneva che l'affidamento fosse relativo soltanto a una posizione di diritto soggettivo magari al risarcimento del danno come posizione autonoma non ad un interesse legittimo qui invece il consiglio di stato dice l'affidamento è un istituto che trae origine nei rapporti di diritto civile e che risponde all'esigenza di riconoscere tutela alla fiducia ragionevolmente riposta sull'esistenza di una situazione apparentemente corrispondente a quella reale da altri creata tu mi hai dato il permesso di costruire per costruire la casa mi fido che l'amministrazione faccia le cose per bene per cui io l'ho costruita è una situazione apparentemente corrispondente a quella reale la legittimità del permesso che qualcun altro ha generato e che io ho subito non potevo farci niente io dovevo fidarmi non è che me l'ha rilasciata pinco pallino ma era rilasciato il comune di nuara il permesso di costruire sorto in questo ambito cioè nato nel diritto civile centinaia di anni fa l'affidamento ha oggi assunto il ruolo di principio regolatore di ogni rapporto giuridico anche di diritto amministrativo questo va scolpito quindi l'affidamento nel diritto amministrativo è diverso dall'affidamento civilistico stesso diciamo stessa definizione ma c'è un'autonoma regolamentazione l'affidamento contribuisce a fondare la costituzione di particolari rapporti giuridici e situazioni soggettive e nei rapporti con l'amministrazione si traduce nell'aspettativa del privato alla legittimità del provvedimento amministrativo rilasciato se tu me lo annulli non me lo rilasci fai qualunque cosa questa frustrazione di aspettativa può essere fonte di responsabilità quindi la responsabilità è da lesione dell'aspettativa a fronte di un interesse legittimo non dell'aspettativa a fronte di un diritto soggettivo o lesione di un diritto soggettivo autonoma nella condivisibile prospettiva in cui si colloca la pronuncia ora in esame attenzione adesso analizziamo il consiglio di stato il consiglio di stato cosa dice non c'è la giurisdizione amministrativa perché la giurisdizione va al giudice ordinario in quanto la cassazione sezione unite nelle ordinanze 6594 95 96 ha affermato la giurisdizione ordinaria sulla base appunto del provvedimento amministrativo oggetto di impugnativa a fronte del quale c'è ci sarebbe stata appunto un diritto soggettivo al risarcimento del danno dice invece il consiglio di stato la giurisdizione è devoluta al giudice amministrativo perché la fiducia su cui riposava la relazione giuridica fra amministrazione privato si riferisce non a un comportamento privato ma al pubblico potere cioè attenzione il consiglio di stato mi dice a fronte di un comportamento della pubblica amministrazione la pubblica amministrazione viene con le ruspe e invade il mio terreno non c'è dubbio che io ho l'aspettativa che l'amministrazione non entri sulla mia proprietà se voglio chiedere i danni devo andare dal giudice ordinario questa è lesione di un interesse o positivo chiamiamolo come vogliamo del diritto di proprietà non importa c'è un comportamento materiale non c'è l'annullamento di un provvedimento amministrativo allora si va dal giudice ordinario qui è diverso qui la aspettativa dell'interessato era sull'esercizio del potere anche se poi il giudizio di cui parliamo non riguarda l'impugnativa di quell'atto c'è comunque un rapporto di diritto amministrativo allora la giurisdizione rimane amministrativa non passa al giudice ordinario questo è lo snodo fondamentale molto complesso ma è lo snodo fondamentale di questa sentenza deve quindi essere affermata la giurisdizione amministrativa attenzione poiché anche quando il comportamento non si sia manifestato in atti amministrativi come in questo caso non di meno l'operato dell'amministrazione costituisce comunque espressione dei poteri ad essa attribuiti per il perseguimento delle finalità di carattere pubblico devolute alla sua cura quindi c'è un rapporto di diritto amministrativo anche se non ci sono atti amministrativi quindi giurisdizione del giudice amministrativo e ciò sia che si verta dell'interesse del soggetto leso dal provvedimento amministrativo quello che deve demolire l'appartamento e come tale titolato a domandare il risarcimento del danno alternativamente o cumulativamente all'annullamento sia che abbia riguardo all'interesse del soggetto beneficiato dal provvedimento amministrativo non importa chi sia l'attore nel caso di specie in entrambi i casi c'è un rapporto giuridico perché anche il contro interessato vanta un interesse legittimo alla conservazione del provvedimento e quindi anche rispetto al potere di autotutela dell'amministrazione attraverso la stabilità del provvedimento e del rapporto eh c'è appunto questa forma di tutela non può dunque essere eseguita l'impostazione secondo cui quando il potere amministrativo non si è manifestato in un provvedimento tipico ma è rimasto di a livello di comportamento sarebbe devoluta al giudice ordinario allora qui apro una parentesi dimenticatela subito ma la ritengo importante noi sappiamo che il consiglio di stato l'adunanza plenaria è il giudice supremo diciamo è il giudice che giudica dei conflitti ma dei conflitti all'interno della giustizia amministrativa qui mi pare di capire che il giudice amministrativo stia andando oltre cioè stia dicendo che la cassazione ha sbagliato ad applicare il suo orientamento giurisdizionale che ritiene prevalente la giurisdizione ordinaria ora voi sapete che quando c'è un conflitto fra consiglio di stato come avviene ora e corte di cassazione l'ultima parola c'era la cassazione per cui la sentenza che non è questa è questa non è impugnabile ma la sentenza della sezione del consiglio di stato che giudicherà su questa causa sarà impugnabile in cassazione ai fini della giurisdizione e non è detto che questo orientamento che vi sto rappresentando sia quello definitivo perché vedremo cosa dirà fra un annetto la cassazione a noi ora ci interessa vedere come ragione il consiglio di stato è molto interessante non è detto che sia l'ultima puntata di questa tappa non può dunque essere eseguita l'impostazione è una frecciata alla cassazione che però avrà l'ultima parola dice il consiglio di stato una recente conferma di tutto ciò che vi ho raccontato in queste dieci pagine si trova nell'articolo 1 comma 2 bis della 241 super jolly questo è segnatevelo che dice i rapporti fra il cittadino e la pia sono improntati ai principi della collaborazione della buona fede come mai il consiglio di stato mi cita questa disposizione perché ecco il ragionamento mi dice guardate noi fino ad oggi eravamo abituati a pensare alla pubblica amministrazione al cittadino nel procedimento amministrativo il procedimento amministrativo è la forma tipica di esercizio della funzione amministrativa la pubblica amministrazione normalmente agisce con provvedimenti con atti amministrativi ma il procedimento amministrativo attenzione alla bomba è questa una bomba non è più contra contraddistinto dall'assoluta unilateralità del potere noi nei libri troviamo ancora scritto che una delle caratteristiche dell'azione amministrativa è l'unilateralità rimane è consiglio di stato non la nega dice non è più assoluta cioè priva di limiti oggi incontra tanti limiti perché perché il procedimento è il luogo di composizione del conflitto fra l'interesse pubblico primario e gli altri interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento questa è teoria generale del diritto amministrativo ci ricorda la nascita della 241 ci ricorda il dibattito che c'è stato al momento della nascita della 141 del 90 si torna un po indietro concepito in questi termini il dovere di collaborazione di comportarsi secondo buona fede ha quindi portata bilaterale non è più un obbligo dell'interessato di partecipare al procedimento in buona fede ma anche della pubblica amministrazione perché sebbene la relazione sia asimmetrica cioè poi la parola finale la da sempre l'amministrazione è una relazione asimmetrica partecipata ricordatevi questo concetto se riuscite ad esprimere all'orale questo concetto prendete 30 lode bacio accademico assunti subito vi fanno prima subito il contratto relazione asimmetrica partecipata nell'ambito del procedimento amministrativo comanda l'amministrazione ma non in maniera assolutamente unilaterale sentendo gli interessi dei vari dei vari attori non è pertanto possibile nel definire il riparto di giurisdizione circoscrivere la rilevanza di doveri al diritto comune dal momento che gli stessi sono comuni al diritto civile e al diritto amministrativo in altri termini la mancata osservanza del dovere di correttezza da parte della pia in violazione del principio di affidamento il concetto di affidamento l'abbiamo descritto può determinare una lesione della situazione soggettiva del privato che pur sempre afferisce all'esercizio del potere amministrativo cioè la lesione dell'interesse legittimo o meglio la lesione dell'affidamento correlato all'interesse legittimo può dar luogo al risarcimento del danno si tratta quindi di aspettative correlate ad interessi legittimi concernenti l'esercizio il mancato esercizio del potere amministrativo la cui lesione rimane devoluta al giudice amministrativo non si va al giudice ordinario perché il rapporto è di natura pubblicistica di natura pubblicistica quanto raffermato trova conferma nella vecchia ormai risalente giurisprudenza della donanza plenaria la donanza plenaria cita una propria sentenza la 6 del 2005 in cui ha affermato la giurisdizione amministrativa riguarda una domanda di risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale proposta dalla giudicataria di una procedura di affidamento nei confronti dell'amministrazione che aveva revocato gli atti di gara molto simile quindi io avevo vinto una gara d'appalto mi è revocata la gara d'appalto io faccio ricorso al giudice amministrativo e la donanza plenaria ha detto certo che il giudice amministrativo per il risarcimento del danno da non corretto esercizio del potere amministrativo una situazione molto simile a quella che stiamo analizzando adesso veniamo agli altri passaggi ormai siamo siamo arrivati a un buon punto è devoluta la giurisdizione la cognizione delle controversie la cognizione comprende i comportamenti eccetera eccetera qui si ribadiscono alcune cose veniamo a il secondo e il terzo quesito quindi sulla giurisdizione chiaro giurisdizione amministrativa adesso secondo quesito l'ordinanza di rimessione cioè il provvedimento con cui la sezione manda alla donanza plenaria sostiene che un affidamento incolpevole va rapportato al tempo trascorso dall'emanazione del provvedimento favorevole per cui intanto l'affidamento è tutelabile sul piano recercitorio quanto si sia consolidato nel tempo con la conservazione dell'utilità per un lasso di tempo ragionevole mentre un simile presupposto difficilmente si può riavvisare quando si ottenga un atto abilitativo di per sé impugnabile in concreto già impugnato in pratica se io ti rilascio un permesso di costruire e te l'annullo il giorno dopo tu non puoi chiedere il risarcimento del danno perché non c'è questo legittimo affidamento prolungato nel tempo quindi la domanda è quanto deve essere prolungato nel tempo perché si formi il risarcimento certo se ti do il permesso di costruire costruisci la casa e dopo dieci anni te la faccio demolire è evidente una settimana un mese un anno inoltre se hanno rilievo i comportamenti dell'amministrazione cioè l'amministrazione che ha adottato certi comportamenti durante questo rapporto rileva ai fini del risarcimento del danno ecco i gli ulteriori quesiti vediamo come ragiona il consiglio di stato su questa seconda parte sulle questioni di merito deve premettersi che l'affidamento tutelabile deve essere ragionevole cioè incolpevole è ovvio che se l'interessato qui viene fatto un esempio estremo se l'interessato mi presenta dei documenti falsi sbagliati oppure alla mia richiesta di chiarimenti tace omette qualche informazione ovviamente si rende colpevole del provvedimento illegittimamente rilasciato quindi deve essere un comportamento non censurabile quello da parte dell'interessato però attenzione e questo un altro passaggio importantissimo la tutela risarcitoria non interviene a compensare il bene della vita persa a causa dell'annulamento cioè ciò di cui si sta discutendo non è il risarcimento del danno perché la signora non ha potuto costruire la sua casa perché non aveva diritto a costruire la casa non aveva interesse legittimo al procedimento per la costruzione della casa la casa non si poteva costruire quindi non si può discutere del bene della vita perso perché non è perso non aveva titolo a costruire la casa perché si è accertato che non spettava questo bene della vita ma il risarcimento del danno ed ecco qui la parola la parte chiave è per ristorare il convincimento ragionevole che mi spettasse quel bene io ho fatto affidamento sul fatto di poter costruire la casa certo non avevo diritto ma nel frattempo non sono andata a cercarla da un'altra parte nel frattempo ho dovuto spendere per costruirla mi sono trasferito ho fatto il cambio delle utenze ho investito e anche moralmente mi ci sono affezionata pensata all'ipotesi in cui duri molto nel tempo magari sono nati i miei figli in quella casa quindi il risarcimento è il ristoro del convincimento che il provvedimento fosse legittimo nella situazione descritta il grado della colpa dell'amministrazione quindi va correlato alla riconoscibilità dei vizi di legittimità cioè quanto era in grado l'interessato a capire se il provvedimento era illegittimo perché se io facendo il furbo chiedo il permesso di costruire per costruire in zona agricola una civile abitazione sapendo che non è possibile ma l'amministrazione me lo rilascia qui ovviamente il vizio di legittimità era riconoscibile l'interessato sapeva bene o poteva sapere bene con l'ordinaria diligenza che il provvedimento era illegittimo quindi non si può dar luogo a responsabilità o a colpa dell'amministrazione è ingenerata dalla domanda dell'interessato che magari mi ha omesso qualche informazione vediamo allora i passaggi del consiglio di stato primo spetta all'amministrazione dare prova contraria dell'errore scusabile cioè lei deve dimostrare che l'interessata era conoscenza sapeva ha non ha presentato i documenti gli ho chiesto chiaramente non me li ha dati ha messo delle formule ambigue non ha messo tutti gli atti ha messo una misura catastale vecchia non quella giornata spetta l'amministrazione questo comportamento va valutato in senso oggettivo la la colpa dell'amministrazione va valutata in senso oggettivo attenzione ovviamente c'è il caso estremo un affidamento incolpevole non è predicabile se il privato ha indotto dolosamente l'amministrazione a emanare il provvedimento tuttavia tuttavia l'atteggiamento psicologico del beneficiario può essere considerato come fattore escludente del risarcimento solo in questa apotesi estrema solo per dolo qui c'è un passaggio un pochino più complesso dice il consiglio di stato ricordiamoci sempre che il privato fa i suoi interessi l'amministrazione è a tutela dell'interesse pubblico il privato è a tutela del proprio interesse quindi il privato non è tenuto a fornire tutti gli elementi all'amministrazione per negargli il permesso deve presentare la documentazione in modo coerente non può nascondere a mascherarla né artefarla né dolosamente ovviamente portare l'amministrazione all'errore ma non è suo onere quello di aiutare l'amministrazione a trovare gli elementi diciamo contrari è come il diritto dell'indagato dell'imputato a non auto accusarsi lui fa la sua parte fa i suoi interessi quindi non si può a questo punto ecco il passaggio va considerato che sebbene il privato sia riconosciuto il potere di attivare il procedimento amministrativo e di fornire ogni apporto utile egli lo fa all'esclusivo fine di realizzare il proprio utile non l'utile dell'amministrazione o l'interesse pubblico a me interessa costruire la casa non me ne prega niente dell'interesse pubblico quindi non è quello l'elemento di colpa che si può dare all'interessato dicendo a l'interessato avrebbe potuto dirmi che era illegittimo no non spetta a lui dirmelo non mi può portare dolosamente a sbagliare ma non spetta a lui certamente dirlo non ha carattere presimente il fatto che l'amministrazione abbia con pervicacia tutelato la posizione del beneficiario cioè il fatto che l'amministrazione abbia cercato abbia provato a sanare la situazione attraverso le norme del testo unico non conta niente in quella situazione ce l'ha messa l'amministrazione stessa quindi questo fatto è del tutto irrilevante anche se l'ordinanza di remissione sembrava alludere a una riduzione della responsabilità no non può essere per il comportamento successivo le ulteriori iniziative adottate dall'amministrazione a difesa del proprio provvedimento dice il consiglio di stato lungi dall'escludere un affidamento semmai lo rafforzano cioè ti sei dato tanto da fare per salvare il salvabile ok la frittata è fatta e adesso tenti di risolvere il problema a maggior ragione questo rafforza l'idea che alla base c'è un legittimo affidamento proprio per questo ricerca estrema di risolvere il problema quindi non riduce la responsabilità semmai non dico la grava semmai la conferma dice il consiglio di stato tuttavia tuttavia va escluso l'opposto estremismo per cui ogni atto illegittimo e annullato sia fonte di responsabilità perché si abbia responsabilità occorre che ci sia intanto la lesione il un danno un danno apprezzabile nei confronti dell'interessato non costituisce elemento costitutivo dell'affidamento il fattore temporale ecco questo è un aspetto importante molti avremmo detto ma il fattore tempo è rilevante no dice il consiglio di stato non è elemento costitutivo dell'affidamento che in astratto è configurabile già dal momento in cui è presentata istanza per il rilascio del provvedimento favorevole quindi se io ti chiedo il permesso di costruire da quel momento io mi confido che mi verrà rilasciato anche se mi arriva dopo un anno due anni tre anni quindi è da quel momento che parte il legittimo affidamento il tempo trascorso dall'emanazione è semmai fattore che fonda l'interesse all'annullamento d'ufficio sappiamo che oggi con il 21 nonies 12 mesi per l'annullamento d'ufficio quindi arriviamo alla conclusione può concludersi il seguente principio di diritto la responsabilità dell'amministrazione per lesione dell'affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento favorevole poi annullato in sede giurisdizionale postula che sia in sorto un ragionevole convincimento sulla legittimità dell'atto il quale escluso in caso di legittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell'impugnazione contro lo stesso provvedimento la ricorrente non ha partecipato al procedimento di adozione della variante urbanistica ecco il successivo ragionamento cosa dice il consiglio di stato nel caso concreto la variante urbanistica che riguardava il terreno della signora che consentiva di costruire una civile abitazione lei non c'era non era ancora proprietaria ha comprato il terreno dopo la variante urbanistica quindi lei non poteva partecipare alla procedura né è stata colpevole in questa procedura poi dichiarata illegittima quindi quando ha comprato il terreno poteva confidare sulla destinazione impressa dalla variante e quindi essendo ingenerata nella ricorrente la ragionevole convinzione sulla destinazione edificatoria dell'aria e perciò dell'equo prezzo d'acquisto si ha la maturazione di un ipotesi di risarcimento né l'eventuale responsabilità dell'amministrazione può essere esclusa dall'eventualmente concorrente responsabilità del venditore come si era difeso il comune dicendo beh il venditore avrebbe dovuto dirgliela dirgliela alla signora che la variante poteva essere illegittima il consiglio di stato dice non ci provare sei te comune che avresti dovuto intervenire non certo l'eventuale che ci può essere responsabilità del venditore che ha taciuto l'illegittimità per quanto riguarda la posta risarcitoria data dall'inutile attività edificatoria intrapresa dalla ricorrente dagli oneri sostenuti per la demolizione costituisce profilo rilevante verificare quando la signora abbia avuto conoscenza del contenzioso qual è il tema se io ho un permesso di costruire e inizio a costruire ovviamente ho fatto delle spese e queste devono essere risarcite tuttavia se il vicino impugna il provvedimento e mi viene notificato da quel momento tutte le spese che ho non sono risarcibili perché c'è un'ipotesi non eventuale che il provvedimento venga annullato quindi deve essere verificato quando la signora ha avuto conoscenza ed è l'ha avuta con la notifica del ricorso contro la variante urbanistica da parte del vicino da quel momento tutti i risarcimenti successivi tutti i danni successivi non sono risarcibili per cui il consiglio di stato alla fine che cosa fa chiude la vicenda rinviando alla sezione remittente quindi non è una decisione definitiva è questa una decisione che chiarisce il punto di principio rimette alla sezione perché prenda la decisione finale quindi la sezione si uniformerà all'adunanza plenaria stabilirà la giurisdizione amministrativa verificherà l'entità del risarcimento del danno per lesione da affidamento senza tener conto dei danni subiti dalla notifica del ricorso in poi dopodiché probabilmente avremo l'esito della cassazione vedremo se la cassazione si uniforma al consiglio di stato oppure dovrà il consiglio di stato uniformarsi alla sentenza in sede di giurisdizione questo è quanto io vi ringrazio per avermi seguito vi metto il link dove potete scaricare la sentenza evidenziata che vi ho appena illustrato e per rivedere eventualmente la diretta se siete intervenuti più tardi vi ringrazio vi saluto e ci vediamo alla prossima occasione a presto